Se stai cercando una casa con tre lati liberi, giardino privato, taverna, garage, dalle 2 alle 5 potenziali camere da letto, 3 bagni, sala, cucina, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in Orto Bertoni e qui si trova questa casa abbinata su un lato, cioè con tre lati liberi su cui corre il proprio giardino, con al piano seminterrato, garage, taverna, bagno, lavanderia e locale di servizio. Al piano rialzato si sviluppa effettivamente quella che è la casa, con sala, cucina, 2 barra 3 camere da letto, bagno finestrato. In più abbiamo un primo piano rialzato o mansardato dove è possibile ricavare ulteriori due camere da letto e troviamo già un bagno anch'esso finestrato e un bellissimo solarium. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.